musica 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 ragazzi la missione è iniziata qui perchè la fine della missione scorsa me l'ha registrata e quindi e quindi il video sarà cortissimo e godete il video lasciate i like iscrivetevi bella scusate una soluzione facilità scusate musica 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 Ho troppo di vita Ahi Ehi, zio Buckwash, sono Skid McMarx, hai presente no? Tuo nipote, sono con il mio agente all'inaugurazione di un negozio paradiso dello sport McMarx ad Aridia e credimi qui è fantastico, ho incontrato persone di ogni tipo Fan? Persone famose, sponsor della Gadgetron Ho anche firmato autografi per queste creature che si fanno chiamare Vlarga Penso che siano ad Aridia per affari Aspetta un attimo Idrosaccheggiatore, dispositivo illegale per il trasferimento dell'acqua Ehm, forse questo non era destinato a me Fermatelo, hai il progetto Aiuto, qualcuno chiami il mio agente, il mio attento staffa Anzi, nessuno dei due, chiamate qualcuno che mi voglia bene davvero, non so agli avarire Ok Sembra che Skid McMarx sia nei guai, raggiungiamo Aridia Ok, raga, non so se quell'altro video l'ho salvato, però non ci vediamo al prossimo appunto A metodo di Ratchet Clank E prima di andare, rispondete al sondaggio che vi lascio qui a fine video Cioè, se volete un walkout, se non so come si dice, un walkout di Fallout 76 E oppure entro a luglio agosto, se volete un walkout, un walkout, una... Questo video, cioè questo video qua uscirà stasettimana Black Ops 3 uscirà fra luglio e agosto, se volete Ma se vi rispondete al sondaggio qui a fine video Ehm, beh, raga, lasciate like, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima puntata Bella, vai you Ciao